Musica 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 E allora tutti in piazza, la gente già scorrazza, non merita un sbarco. Guarda via, il momento va, 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 bene ragazzi ci sono tre regole uno viene la camicia due liberate l'altro e giù la zip due liberate l'altro due liberate l'altro la scena è già scorrazza non vedi che lo sbaglio guarda con le mano il momento 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 ci sono tre non vedi che lo sbaglio non vedi che lo sbaglio è